cento ventinove 좋아요 bene cento trenta 그래서 allora cento trentuno 예를 들면 어떤 거? per esempio cento trentadue 물론이죠 sì, certo cento trentatré 나도 그래요 anch'io cento trentaquattro 여기요 qui qui cento trentacinque ichoghia di qui cento trentasei yugamia mi dispiace cento trentatette cento trentatette 미안해요 scusami cento trentatto cento trentatto 죄송합니다 scusa 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 cento trentanove cento trentanove cento trentanove bene cento quaranta cento quaranta molto bene cento quaranta cento quaranta uno usta ettio cento quaranta tre cento quaranta tre 고맙습니다 Grazie Centoquarantaquattro 부탁합니다 Per favore